Buonasera, 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 McCrage, buonasera, va benissimo così i recapponi in whisper su Twitch sono fantastici. Buonasera Wild Dice, buonasera Mauro Twitch, Sir Mamion, ragazza qualunque, Inokid, ben arrivati, come state? Buonasera, buonasera. Buonasera, 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 buonasera Allora Questa sera volevo fare Non volevo fare una live Poi non volevo farla Poi volevo fare un'avventura grafica Poi ho detto ma l'avventura grafica Ero tutto combattuto Poi ho detto vabbè non la faccio Non faccio la live Stasera mi riposo Poi ho detto ma senti Sai che c'è La live magari la facciamo un po' più breve Non la facciamo delle solite due ore e mezza Tre ore, quattro ore, sei ore Ti faccio vedere un gioco Un po' più breve da far vedere Di quelli che magari Una live è lunga Vai a dormire Ragazzi qualunque Noi qua ci moderiamo da soli Ciao Zuppettina Sono tutti bravi qua Non fanno casino Se sei stanca e non stai bene Cosa riposati Prenditi cura di te stessa E ora facciamo una live più breve Facciamo una live su un gioco più Più breve Più breve Perché è molto più Non so come definirlo E' sempre un problema Quando non cerco di spiegare i giochi Avete capito Giusto? No Ma non è importanza Stasera vi faccio vedere Spell Sword Cards Dungeon Top Che già il titolo è tutto Un programma Spell Sword Cards Dungeon Top Fa parte della serie Degli Spell Sword Cards Che è una serie E dove Curiosamente Il primo Sembra essere tipo Un libro game Il secondo Sono diversi Sono proprio tre giochi Ci sono tre giochi Che si chiamano Spell Sword Cards E sembrano tre giochi Completamente diversi Tra di loro E non so come classificare Questa cosa Sinceramente Hanno tutta una meccanica Di deck building Ma altro non so dirlo E in accesso anticipato Lo so Mi fa piacere stare qui Un po' con voi Ho appena preso una pillola Aspetto un po' Per lui andare a dormire Va bene Se vuoi La compagnia Te la teniamo volentieri Allora Cosa ci dice La pagina Steam Di questo Spell Sword Cards Dungeon Top Un roguelike Deck building experience Accoppiata con delle battaglie Tabletop di The Board Game Scegli un eroe E un'alleanza E entra nel dungeon Evolvi il tuo mazzo Per sopravvivere Ogni scelta che fai Importa Anche tra le battaglie Va bene Le recessioni Sono very positive Ce ne sono 82 Di cui il 91% positive Quindi Va bene Costi 13 euro e 29 Ho sviluppato dagli One Up Plus Entertainment Mi piacciono questi nomi Che arrotono un po' Spell Sword Cards Dungeon Top One Up Entertainment Tutti fatti di pezzetti Cioè hanno un po' Questa Chiave stilistica Ed è in accesso anticipato E' uscito il 16 gennaio Del 2020 Quindi l'arca recente Ed è uno di quei giochi Che a me Mi piacciono da giocare Perché mi permettono Di fare una partita Di mezz'oretta Una cosa così Quindi voglio fare una pausa Mezz'ora dopo pranzo Così mi faccio una partita E sono quei giochi Difficilissimi da portare in live Perché poi io li gioco Li provo Li gioco una volta E poi dico Ah che carino Devo farglielo vedere Alla chat E poi non li gioco mai Non li faccio mai in live Come sarà Valtier E quindi stasera Che avevo sta live qua Che volevo fare una live Un po' più breve Perché voglio fare anche Comunque Ho detto Può essere il gioco giusto E ve lo faccio vedere E' uno di quei pochi giochi Che ho già giocato Prima di farvi vedere E Se adesso però Clicco nel posto giusto La live può proseguire Se no Se clicco nel posto sbagliato Voi guardate Uno schermo nero E io guardo niente Ho sempre voluto Un gioco di carte Ma non so perché Mi sono sempre frenata Forse perché non gioco Molto in multiplayer Beh Slade Spire Single player Anche questo è single player Ma tu vuole un gioco Di carte fisica Fisico Oppure un gioco di carte Digitale Facciamo aprire Ah Devo cliccare sul launcher Se no Per e pe 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 Non vediamo niente Adesso Oh Adesso vedete qualcosa L'estetica è molto bellina E' una di quelle estetiche Che piace da me Un po' era Darkest Dungeon Il gioco insieme Non c'entra niente Con Darkest Dungeon Ma l'estetica Un po' lo ricordo Allora Vi faccio subito vedere Se io faccio New Hero Che ho a disposizione Due eroi al momento Che dovrebbero diventare Poi forse tre Con il La fine dell'accesso anticipato Credo Ehm Ho due possibili mazzi Sopra lo scelgo E a destra Vedete che cambia Ok Ehm Di qua ho i soldi Che posseggo Che mi servono A sbloccare cose Ehm Per esempio Vedete Carte di vario genere Al momento Non posso permettermi Ehm E poi ho delle missioni Che posso Fandare a fare Ehm Nel corso della mia partita Delle quest Ero digitale Ho avuto quella fase Già da piccola Ah ok Gioco di carte Ehm Slade Aspire In questo momento Non c'è niente che sia Ti devi prendere Udo Per di Slade Aspire Dal secondo È della scelta Il del primo No E peraltro Non è neanche Multiplayer È anche Oppure adesso Se vuoi provare Il multiplayer A parte l'ovvio A Erzton C'è Legend of Runeterra Che è carino È una versione Più simile A Magic Ma più Più Semplificata Io non amo troppi giochi di carte Ma non li odio Questo non è esattamente Un gioco di carte Adesso vi spiego Dicevo Ci sono due fazioni Vedete Io posso scegliere Il protagonista E la sua fazione Considerato che A seconda del protagonista Anche nella stessa fazione Cambia il mazzo Ok Il mio eroe Livella Ok Tutte le carte Tutte le pedine Perché sono carte Ma sono pedine Hanno uno di Scusatemi Hanno un valore di attacchio E un valore di difesa Questo valore qui È quello che dice Che quando va a zero Siamo morti Ok Se vedete Tanto per fare l'esempio Il nostro guerriero Ha due dodici Di attacco E E E Vita Mentre il mago Ha uno E dieci Ok L'ho finito una volta Col guerriero Il che mi ha paura Si raccomandano abbastanza soldi Da sbloccare Il mago Volete vedere anche Runterra Una di queste sere Io ci sto anche giocando Ogni tanto Quindi Ve lo so anche spiegare Se volete vederlo Ve lo faccio una sera Una di quelle robe Da streamer mainstream Che però Non è che io li schifi Magari non ve li faccio vedere Ma non è che li schifi Di base Scegliamo un mazzo Tipo questo qua In questo periodo va molto E lo so che va molto In questo periodo Zubbettina Ma io non faccio le cose Che vanno molto Le faccio sei mesi dopo Non so perché Vabbè Creiamo l'eroe Le chiameremo Tiling La Firewalker Va bene Ci sto C'è una trama C'è il den Il rifugio Dove ci sono C'è il dungeon Era essenzialmente Generato proceduralmente Boh a me non ispira Un terra Non posso mai contentare Tutti Minocchi Però A bipietà Allora Il dungeon funziona così Io posso cliccare E spostarmi Da una stanza all'altra Nel primo dungeon Ho sempre questa situazione qua Che è Due porte ai lati Una delle quali Un percorso facile Una delle quali L'altro percorso difficile E una terza porta Che è quella per il boss Prima di arrivare qua Dove arrivare alla fine Di questo ramo Del dungeon Non so perché sia fatto così Potrebbero essere Tre piani diversi Ma gli piace così E lo faccio così Ok Vedete che In alcune caselle Ci sono delle Belle facce Simpatiche Che sono Delle creature Ok Creature di vario genere Nel momento in cui Noi entriamo Nella spazio Della creatura Possiamo Incontriamo Questo signore Goblin Wrangler Possiamo scappare O combattere Scappare Una cosa che possiamo fare All'inizio Sempre 100% Di riuscirci Ogni volta che usiamolo Scappare La percentuale scende Mi sembra che La seconda volta Che lo usiamo Sia 75 Ci permette a volte Di tagliare Di combattimenti Che non ci servono Qua combattiamo Perché ci serve Combattere Come avviene Il combattimento Il combattimento Avviene Prima di tutto Pesco Delle carte Si possono Malliganare Come immaginerete Le carte Sono 1, 2, 1, 3 Questo è Uno In grandesimo Shock Fa due danni A tutte le unità In una fila Partendo da Una unità Di accente I mini Cadesimi Fanno tutti Più un danno Per il resto Della battaglia E questo è Un helm Recruit Che ha Attacco 2 Difesa 2 Knockback 1 Cosa vuol dire Knockback Lo spiega Spinge indietro Di 1 Quando colpisce Allora questo qua Al momento Togliamolo E mi ha dato Due reclute Ok A questo punto È il mio turno In ogni turno Io ho Tre azioni Ok Questo signore è brutto Anche se si è dato bene E vabbè Non si può Questo signore qua O questo signore qua Quale dei due signori Questo che sembra nudo Che sembra la comparsa Di un film porno O questo che Sembra la comparsa Di un film porno Genere Vecchio e disgustoso Ok Dicevo In ogni Round Abbiamo una serie Di azioni Che possiamo fare Ogni personaggio Che sulla plancia Può muoversi Attaccare O attaccare E muoversi Ok Quindi volendo Io potrei Spostare lei Più vicino Più lontano Dalla situazione Posso Posso giocare Delle card Delle pedine Ok Le pedine Sono Se io faccio così Faccio così Ok Le pedine Le posso piazzare Solo adiacenti Ok Quindi Nello specifico Potrei fare così Potrei fare così Poi Ho pescato Tre carte Ok Il porno Vecchio e disgustoso Tradotto Il goblin Ok Le pedine Posso giocarle Quante ne voglio Quante ne ho Le posso giocare Considerato Che al fine del turno Io scarto tutto E ripesco Ok Gli incantesimi Vedete Che hanno una roba Un disegnetto Sopra del sacchettino Blu Il sacchettino blu E il mana Il mana E di qua Io posso usare Fino a tre mana Qual è il contro De usare il mana Che nel round successivo Pescherò Sempre Tante carte Quanto è il mio mana Disponibile Quindi Se io ora Gioco questo Ok Il mio mana Scende a due Al prossimo turno Io pesco due carte Poi mi si rigenera Un mana Quindi Se io questo turno Avessi tirato Tre incantesimi Il prossimo turno Avrei pescato niente E mi si sarebbe Rigenerato un mana Quindi il turno dopo Avrei pescato una carta Posso sempre Rigenerare il mana Scartando delle carte E non giocandole Ok Quassù vedo Uno Qual è l'arma In mano Al nostro amico Ok Che fa Attacco a range Col pugnale E che carte Ha in mano lui Lui ha un angry goal Un big angry goblin Un big angry goblin Passo Pesco due carte Mi si rigenera il mana Ok Vi quadra tutto ciò Puoi essere evocato In ogni spazio vuoto All'inizio del tuo turno Aggiungi Una trasposizione Nella tua mano Ah questo Posso metterlo Per switcharmi Con lui Dunque Se io faccio così Che mi frega Perché io faccio un danno in più Perché ho giocato questo Quindi faccio sei danni Di base Così Tu vai qua E lo attacchi E lo spingi via Tu vai qua E lo attacchi E lo spingi via Perfetto Vediamo la sua carta E la carta del turno dopo Ci noi sappiamo Che il prossimo turno Lui potrà tirare I pugnali Che è un incantesimo E il turno dopo Evoccherà un altro Big angry goblin Ok Ho scartato una carta E quindi mi ha rigenerato Un mana Prima di pescare Ok Adesso abbiamo tre unità Uno è un guardiano Che è interessante Perché appena un nemico Si muove vicino a lui Lui attacca Il secondo è un rager Che Boosta Il suo potere ogni turno E lei che busta L'unità adiacenti Ok Allora la cosa più furba è Metto te qua Metto te qua E metto te qua Così questi qua Ho fatto tre di attacco E poi passo Perché Perfetto Lui ha attaccato Lei l'ha uccisa Si è spostato di fianco Al guardiano E il guardiano Gli ha tirato tre mappine Sulla faccia A questo punto Siccome io posso Muovere e attaccare Posso fare così Posso fare così Quando muore La creatura che stiamo Combattendo Tutti i suoi minion Vanno via Ok No più casti Meno peschi Esattamente Inokid Poi alla fine Alla fine di ogni combattimento Incanto un minion Con una bombing fusion Quando si muove Fa tre danni a lui E a tutte le unità di acenti Ok Interessante Anche alcuni minion Possono costare mana Quindi di qua Abbiamo un goblin pack leader Un blacksmith E un evento random Allora Cominciamo ad andare Dal blacksmith Il blacksmith Fa l'upgrade Delle carte Ok Il primo upgrade È gratis Quindi mettiamo caso Che io vada qua Vedete Passa da 1 2 A 2 3 Ok Che è già più utile Per questo Maledetto Un mana Che costa Se no Possiamo andare Da qualcun altro Questo diventa 4 2 4 2 Bello 4 2 Un bel numero E fa un nome di 2 Alziamo quello Che mi sembra più scarso Dicevo Il primo è gratis Dal secondo Io lo volessi fare Devo pagare un tesoro Tesoro Non ne abbiamo ancora trovati Quindi vi farò vedere Vi spiegherò dopo Quello sono i tesori Andiamo a combattere Questo simpatico Signore anziano Chiaramente Io inizierei Questo qua lo terrei Però sai Questo non mi piace Quindi farò così E farò così E questo qua lo scartiamo Scartando Lo tiriamo sul mana E ne peschiamo Di nuovo 3 Chi siete voi? Allora Questi qua sono Dei goblin Fessi Che hanno Attacco 2 E difesa 1 Ma hanno un blocco Quindi ignorano Il primo danno Che gli faccio Si per tutto Ma la costa La roba di sta donna Porca miseria E poi mi ha ucciso Malamente Va bene Allora Se io faccio Fuori tè E poi metto Tè qui Posso mettere Tè qua Che ci busta Tutti e due E a lei Mettiamo lo scudo Questo simpatico Nannetto qua Genera uno scudo A turno Lo scudo Non è che fa Tre attacchi No kid Quell'incantesimo Faceva Tre colpi Distinti Da due Quindi il primo L'ha parato Ma gli altri due danni Gli altri quattro danni Li ha presi Hai capito? Sapevo che avresti fatto questo Perché sei stronzo Quindi farò così Farò Così Farò Così che non serve a niente Io volendo Potrei muovere Anche lei Qua Se muovo Lei qua Sicuramente Non uccido Perché fa solo Due danni Posso ammazzare Questo Me ne frega Di ammazzare Quello Togliendo questo Questo può avanzare Toglio lo scudo Lui Quindi vado qua Faccio così Le metto lo scudo Lui sale di uno Va già attaccato prima Che non attacca più Forse sì E lei prende due danni Che preferivo Non li prendesse Sinceramente Qua E di nuovo Prendiamo della roba Io prenderei almeno Un altro Destinani Maledetti Va bene E poi un incantesimo Teleport Target Un'unità Amica E poi Un quadra Una casella Teletrasporta Unità Su quella casella Se c'è un'altra unità Su quella casella Fai cinque danni Entrambe Invece che spostarla Interessante Mi piace Sono basato Il livello Quindi posso scegliere Se avere Una carica di Soft Barrier All'edizione di turno Quando prendi il danno Riduci il danno Della montagna Delle cariche Di Soft Barrier E togli una carica All'edizione di turno Guadagna una carica Quindi toglie Massimo tre danni Da ogni danno Che mi fanno Oppure Lip 2 Oppure Fai più danni Con l'arma Se non ti muovi Nel tuo turno Pesca una carta in più Questo è molto bello Questo è molto bello Questo è tutto Sulla pesca Per generare Più carte in mano Possibile E questo Mi abbassa Il costo Delle carte Colmana Interessante Ogni turno Un casting gratis Ogni turno Sì grazie Prendiamo Lip 2 Ok qua abbiamo un evento In una stanza Illuminata Poco illuminata Vedi un Cicare di un tesoro Ma prima che tu possa Acchiapparlo Realizzi che Sei stato intrappolato In una Appiccicosa Ragnatela Livello 2 60 60 di punti Esperienza Elite Fight Tutto chiaro Quello che vi ho Raccontato Fino ad adesso Se avete Le domande Fatemele Questo affare qua Togliamolo Allora Allora Ci tocca farla Questo che fa tre danni A tutti Allora Tu non sei una minion Cioè Sei forte Perché fai tanti danni Ma non sei Quando attacca Appica un veleno Al difensore E Applica Webbed Ad ogni nemico Sulla plancia Puoi attaccare Un muovere Ma non fare entrambi Va bene Ah Ovviamente Un'altra cosa Che non vi ho detto È che io posso Togliermi dai piedi E posso Posso giocare Pedine Adiacenti A qualunque Mia unità Quindi io volendo Posso fare così Ok Fare così Fare così Quando si muove La prossima volta Sono tutti Webbed E quindi Non può muoversi Valedizione E Fine Il turno Va bene Non avevo dubbi Io posso fare così Ah Sono Webbed Maledizione Continua ad essere Webbed Però Che cosa Stronza Ok Adesso ho giocato Entrambe le carte Ho zero di mana Quindi prossimo turno Non pesco niente Lui continua Sono suonate Non ci siamo arrivati Come si recuperano HP Poi adesso Vediamo se ci ricapita Te lo faccio vedere Ciao Cesar Italica Riproviamo Cambierei mazzo Per variare la cosa In realtà è meglio Se gioco lo stesso mazzo E vediamo Che adesso L'ho provato Almeno una volta Cosa sto facendo Ok Signor Lizard Shieldmaster Buongiorno E non mi è neanche Per questo di evitarlo Perché era un elite Magari avrei detto Vabbè Torno dopo Ok Un'altra cosa Che ovviamente Noi possiamo fare È questa Cioè Creare Adesso Lui si avvicina E verrà attaccato Dei nostri due simpatici Uno dei simpatici Amichetti guardiani Il realtà è uno Shieldmaster Quindi va su Degli scudi Quanto ha di scudo Ancora Due Quindi questo Lo toglie Se uno L'abbiamo fatto Questo è il secondo Ovviamente Lui cerca Di fare Delle cose Allora Se io Metto lui qua Metto lei qua Ok Ok Va benissimo Va benissimo Qua Allora Te li togliamo Qui Tu non mi Servi a niente Però Con Tre Più tre Dovrei essere A posto Guarda che faccia felice Che ha questa lucertola E invece Purtroppo Cercava di uccidermi E cercava di uccidermi Felicemente Sono sempre spell Targetto Targetto un minion Tutti i minion Adiacenti Hanno il loro potere Base E gli hit point Uguale a quelli del minion Che ho indicato Quindi scelgo un minion E tutti hanno valore Pari a quello Va bene Cominciamo a bustare Delle carte Va Tu anche Non sei male Col guardia Fidiamoci Di questi Simpaticoni Qua su Che va bene Un aventure Sembra Se sorpreso Da due Di freddi pattuglie Senza aiuto Perirà Codagno Una carta Due stelle O combatti Combattiamo Proviamoci No questo Mi va bene No questo Mi va bene Non è No questo Mi va bene No questo Allora, se io faccio così, poi faccio così ed equalizzo tutto a lui, sono tutti 3-5. E io ne sono lieto se sono tutti 3-5. Allora. Qua c'è una complicazione, che se io avanzo con questo gli faccio altri 3 danni, poi lui muore. Sì, muore sulla terra di tutti e due. Se loro avanzano, lui non li uccide. Deve può spostarsi qua. Lui viene avanti, fa così. Lui viene avanti e targetta questo. Tu già che ci sei, tacca quello lì. E questo qua lo mettiamo qui a fare da scudo umano, direi. E fine del turno. Dottore, arrivederla. Abbiamo salvato l'omino. Oh, mi dà un elm clasher. Che fa haste, cioè quando lo evoco agisce subito e che spinge. E scarsino come valori, ma il fatto che si muova, vedrete poi che ha una funzione tattica. Minion. Può essere evocato in qualunque posto vuoto, non può muoversi o agire. È un muro. Un muro illusorio, va bene. Riprendiamo l'IP2, che mi serve quell'altro di là. Prima il Bowmaster, prima il no, prima lo Spearmaster. O prima il, no, il Nessmother, il livello 2. Lo lasciamo lì ancora un secondo. Comunque, per risponderti, vedrai che di fianco a me, vedi che qua c'è... Il simbolo delle pozioni. Posso trovare delle pozioni che mi permetto di curarmi. Ciao, Zuppettina. Tutto chiaro? Cominciamo con questo signore rosa. Lui ha range 2, quindi attacca anche lui che non è contento di essere attaccato. Quindi facciamo 1, 2, 3 e 4. Tu devi essere adiacente, maledetto. 3 e 2, 5. 5 non ne ho granché. Quindi togliamo questo. Facciamo 2 lì. Spostiamo questo qua. E tu vai qua. Non so neanche se generarlo io questo. Potrei perché tanto non mi serve a niente. L'altro devo... Lo tolgo comunque. Perché non posso targettare nessuno. Ho un bel muretto. Cosa sei tu? Tesoro. I tesori sono i tesori che mi danno 30 monete se li porto fuori. Oppure li posso scambiare per dei servizi dentro il dungeon. Tipo della forgia perché voglio dare una seconda carta. Ok. Non si dovrebbero consumare. Quindi pesco una carta e poi tolgo una carta. Mettogli il muro per ora. Uh, interessante. Allora, se io sposto questo qua. Questo lo metto qua. Questo lo metto qui. E poi dico che tutti gli adiecenti diventano 4 o 3. Tu puoi già attaccare. Tu puoi già far così. Tu ti sei già mosso. Basta. Bella quella carta con la bilancia. Molto bellina quella carta con la bilancia. Oh, qua ci cambiano le carte che possiamo trovare. Cioè possiamo scegliere tra due minion e una, due, tre weapon. Le weapon boostano noi. Cioè cambiano come agiamo noi come miniatura. Per esempio, se io prendo questa carta qua. Oh, range 3. Targeta gli amici e gli swappa attacco e difesa. Che interessante. Un great round a due stelle tra l'altro. Va bene. Bella, questa è molto tattica. Prendiamo un altro minion. No, questa non la voglio io però. Le flerstor sono essenzialmente delle carte in più. Sono una currency che io posso spendere per pescare più carte nella fase di loot. Adesso te lo faccio vedere meglio. Io sempre questo tengo. Tutto il range 3. Quindi sarà molto difficile non venire... Se io mi sposto qua, metto il cane adiacente, in teoria tu non arrivi a prendere il cane in nessun modo. Allora, il muro posso metterlo qua? Allora, il muro posso metterlo qua? Tu però mi targhetti. Sì, il range 3. Maledizione, non ci ho pensato. Ah, e non ho equipaggiato l'arma, porca miseria. Allora. Tu vai qua. Tu vai qua. Tu fai così. Al muro non può attaccare comunque. Bravo che hai fatto quella scelta lì, ma tanto è rimorto lo stesso. Guarnaccio, ragazze, qualunque. Ok. Un tesoro, un minion, uno di attacco, uno di difesa. Quando un nemico gioca una minion, lui diventa una copia. Interessante. Pozione, ecco. Questa è una cura. Mi cura fino a 5 punti ferita. Posso giocarla sia nel gioco che fuori che in mappa. Se non la gioco in mappa, mi può uscire come carta nel mazzo e quindi in realtà mi... Se non mi devo curare, mi fa perdere una carta. Mi fa perdere una carta. Vai di minion. Minion mi piace. Sotto la mia... Per spiegare le firestone, sotto la mia faccia, adesso mi metto qua sotto, ci sono... C'è questa currency qua, vedi? Che mi dice 2. Se io prendo una cosa in più, tipo decido di prendere... anche questa, vedi? Ho speso una firestone. E ho ottenuto una palla di fuoco. Che bello, fa 3 danni per il numero di mana che ci spendo, quindi non fino a 9 danni subito. Bello. Torno in alto a destra, intanto le firestone non vi serve a saperle prima. Oh, la prima cosa che costa mana, costa un mana in meno. E andiamo a metterle l'arma corretta. Che così è meglio. Guarda. Queste sono le meccaniche del gioco, essenzialmente. dovete vedere ancora un paio di caselle particolari, ma... Grosso modo, le meccaniche sono queste. Tu hai 16 di vita. Diventerai assieme a 2-2 con range 2. Intanto prenditi un danno, va. Va che mi fa anche le uova. Tu fai così. Tu fai così. 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 E così che mostriamo tutti. Posso assumere lui un 1-2-3 e gli permetto di sopravvivere. Ottimo. Signorina, lei si deve calmare un po', però. Posso dirglielo. No. 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 Pesco la carta. E' schifo. Ma giusto perché se ti metto qua è un posto in meno dove puoi evocare roba. Questo qua non mi serve a niente metterlo qua, se no il fatto è che adesso lui questa carta qua può metterla solo qua, oppure si sposta e la mette qua sotto. Ok. Ok. Esattamente. Ha generato l'uovo da diecente a questo, il che è stata una bella soluzione. Allora, 4 danni così. E mi va bene. Poi, 3 danni così, sposto, vai su, fai altri 3 danni. Tu vai qua e attaccalo pure. Tu vai qua e attaccalo pure. e tu fai 3 danni. E tu fai 3 danni. Tu sei morto comunque, tu sopravvivi comunque, e tu questi qua non puoi evocarli. Cioè, si può evocarne uno lì e basta. Perché l'altro non è la casella di accente dove metterlo. chiaro. Chiaro. Carina l'arma che switcha le cose. Minion prendiamolo sempre e poi uno spell inverte due unità. Va bene. Ok. Abbiamo scoperto il tempio che mi permette, se voglio, di rimuovere delle carte dal mazzo. Per esempio, questa qua che a me non piace, io posso dire questa qua va via. Così non la pesco e non mi annacqua il mazzo. Ok. Quando arrivo al portale, invece mi dice il misterioso portale luccica nell'angolo della stanza. Da un lato vedi una strada normale, dall'altra una strada più pericolosa e oscura, con più loot. Da che lato vuoi andare? La dark path. Grazie. Al che scendo qua sotto, torno all'inizio e una delle due si è aperta. Questa no. Questa sì. Questa sì. e c'è l'orco. Allora. Togli quella, mi dai un muro. Che me ne faccio del muro. lui è a dash. Se io salto qua, allora io posso saltare fin qua. poi metto lui qua. Lui qua su che già può fare una roba. poi preferirei lui non venisse in quella direzione lì e quindi lo sposto e metto un muro. La cosa comoda è quelli che agiscono subito che ti permettono di fare già dei balzi di mezza mappa. ok. Il mio problema è che anche se io balzo qua posso fare due danni e due danni mi servono qualcosa l'esposta è no. quindi finiamo il turno così. La cosa positiva del mio balzo è che io posso balzare al di qua. poi posso fare così lui si muove già e gli fa undici danni io gliene faccio due va nove perché non posso ah tu ha Minion scusa non ho capito fai tre danni ad un Minion x volte dove x è il quantitativo di mana che spendi e perché non posso targettare lui? e neanche lui posso targettare posso targettare solo i miei perché? non ho capito non mi è chiaro questa cosa del fatto che non posso targettare lui ho capito e che perché che cazzo non ho capito problema che adesso ci sono due di vita che è un problema mica da poco non ho la cura e sono fregata non ho una cura e sono allegramente fregato abbasso il Minion a due tre non cambia niente no e boh a questo punto io potrei volendo andare a no questo non c'entra niente scusate potrei potrei andare nel New Hero e decidere per esempio che a lei voglio sbloccare delle carte e le carte sono in generale carine ho 111 di monete d'oro e ho vari tipi di creature che possono allegramente venire a darmi una mano incantamenti su altre Minions le casto anche su questa quando questo Minion è distrutto fa danni uguali al doppio di quelli che ha preso alle unità adiacenti carino questo costa 200 non me lo posso permettere io avremmo volendo sempre con questa simpatica fanciulla un mazzo fatto diverso con delle cose in comune e delle robe diverse ok io non sono un Minion McRoger io non sono un Minion su di me non ha effetto ha effetto solo sui Minion non funziona nessun di me nessun boss avversario però un'altra dicente anche alleati si no ci ho pensato ma non funzionava su di me se no avrei anche il boss avrebbe diventato 2-3 capito con due mosse shotteresti i boss praticamente un sacco di boss li potrei shottare al turno 1-1 e questo è il gioco lui è un mazzo con molti meno spell e molte più armi lei è un mazzo che ho provato oggi per la prima volta con molti più spell molto più difficile lei da giocare di lui lui è più più semplice lui ho finito l'ho finito con questo ma ah ho appena scoperto una cosa vedi ogni fazione ha tre mazzi diversi ogni fazione ha tre mazzi diversi non lo sapevo minimamente l'ho scoperto adesso davanti a voi quindi se io gioco con lui posso giocare con tre diversi mazzi peraltro con carte tutte diverse carino molto bellino quindi ogni eroe ha due fazioni e ogni fazione ha tre mazzi beh un po' più vario ok mi piace questa cosa fa due danni più un danno per un'unità adiacente più il circondato più male gli fa sei danni meno due per ogni un'unità adiacente quindi questo serve per se sei distante da tutto allontana tutti di un quadretto vabbè carino che abbia delle varie opzioni come come tipi di mazzo questo mi piace va bene il gioco è volevo farvelo vedere così è una live breve questa qui giusto per illustrarvi questo gioco più o meno come è fatto più o meno avete visto tutto quello che c'è da vedere nel gioco ovviamente ci sono vari livelli vari boss varie creature bla 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 sono tre al momento sono tre piani per ogni lo finisci se arrivi alla fine del terzo piano ci ho provato due tre volte prima di riuscirci col mazzo quello del guerriero quello base io spero vi sia piaciuto vi abbia incuriosito noi ci vediamo domani per fare gli agricoltori alle 13 buona serata buon venerdì sera ciao